cari lettori di extreme hardware oggi vi presentiamo una nuova video recensione del cabinet cooler master anne 400 una soluzione particolarmente economica perché stiamo parlando di un modello che costa 55 euro presso i rivenditori autorizzati il che significa che una soluzione potremmo pensare entry level il discorso però è che presenta delle finiture delle caratteristiche che possono essere trovate su modelli della fascia immediatamente superiore frontalmente troviamo un pannello forato con una sorta di finitura in mesh proprietaria perché presenta delle differenze rispetto ai classici motivi esagonali che possiamo osservare in altri modelli della concorrenza quindi un'intera paratia in mesh con la predisposizione per due ventole a 120 mm nella parte inferiore oppure un radiatore da 240 mm in realtà dipende dal modello perché potrebbe esserci qualche problema ma comunque sia la compatibilità con i radiatori accertata nella parte nella paratia destra da 240 mm e nella parte superiore da 240 mm anche se purtroppo questo è un cabinet mid tower quindi consigliamo eventualmente l'acquisto di modelli più costosi che permettano una compatibilità migliore sotto questo punto di vista ad ogni modo parte in mesh frontale una striscia di personalizzazione con una finitura satinata ma e niente con gli ingressi in out quindi usb 3 usb 2 mic in audio in reset e con il connettore di accensione oltre a questo sono presenti sì tre slot per periferiche appunto da 5.25 pollici in questo caso c'è un lettore di vd ma potrebbe esserci tranquillamente un fan controller e l'ingresso frontale e la predisposizione frontale per una periferica da 3.5 pollici pensiamo ad esempio a cage e otto swap eventualmente accessori che possono essere acquistati separatamente ad esempio per due dischi da 2.5 pollici oltre a questo quindi troviamo la paratia destra che presenta appunto questa questa predisposizione con fori e filtro inferiore per due ventole da 120 millimetri paratia sinistra per una ventola da 120 millimetri o 140 millimetri e una parte posteriore classica per una singola ventola da 120 millimetri già preinstallata oppure 92 o 80 millimetri due predisposizione per fuori per il passaggio di sistemi a liquido ed oltre a questo quindi una configurazione classica con sette slot di espansione per periferiche pci o pci express bene e questa è la struttura del del cabinet adesso procediamo allo smontaggio per quanto riguarda le dimensioni complessive scusate siamo su 190 millimetri di profondità e 501 di larghezza e 426 millimetri di altezza complessivamente adesso procediamo allo smontaggio della paratia sinistra e verifichiamo direttamente all'interno si smonta tramite due viti potremmo metterne una non c'è nessun problema la parte posteriore non presenta assolutamente nessuna particolarità segna di nota e quindi niente questo è il sistema nella nel suo nel suo complesso quindi in sostanza abbiamo un l'assemblaggio è discreto diretto rispetto ad altri modelli anche se ovviamente c'è qualche piccola particolarità che merita attenzione ad esempio il passaggio del connettore da 8 pin della psu è stato necessario farlo passare lateralmente accanto alla ventola 120 millimetri non è un problema ma si poteva fare qualcosina di meglio il problema però è uno lo spessore del case che ovviamente essendo mid tower essendo un cabinet da 55 euro non possiamo pretendere che sia perfetto sotto il punto di vista del cablaggio ma soprattutto delle dimensioni del telaio infatti così è comunque bisogna far passare il cavo nella parte superiore per quanto riguarda il resto possiamo predisporre l'hard disk nella parte inferiore l'hard disk nella parte inferiore tramite l'ausilio di due semplici viti e due dall'altra parte se volete ma qui è semplicemente assemblato con due e il passaggio del connettore da 20 più 4 pin in questa fissato appunto al telaio tramite fascette passacavo di questa tipologia fornite in dotazione nel case queste sono le uniche diciamo due accortezze che vi consideriamo di prendere in considerazione all'atto dell'assemblaggio ma comunque sia tutto è risultato molto facile e veloce per quanto riguarda il fissaggio delle periferiche da 5.25 pollici è classico tramite un sistema che permette l'installazione e lo sblocco delle periferiche in modo molto veloce e questo è un elemento che è presente in molti case della concorrenza ma che è certamente carino per quanto riguarda il montaggio perché permette appunto una immediatezza molto elevata per quanto riguarda altri elementi distintivi possiamo installare eventualmente un radiatore nella parte superiore ma c'è poco spazio partendo dal limite della scheda madre quindi in sostanza consigliamo di installare il radiatore in quel posizionamento e ovviamente questo ci teniamo a far presente che è semplicemente un video di presentazione del modello perché nella recensione scritta che troverete nei commenti sotto a questo video troverete appunto tutti i dettagli tecnici per quanto riguarda il case quindi foto in alta risoluzione e dettagli per quanto riguarda la compatibilità e l'installazione di eventuali sistemi a liquido all'interno di questo case ovviamente non potete aspettarvi miracoli saranno sarà affrontato il discorso della e della dell'installazione di un radiatore nella parte posteriore da 240 mm e eventualmente anche quello nella parte frontale anche se qui come vedete c'è una parte una parte fissata con rivetti che significa che sarà molto difficile se non impossibile installare il un radiatore da 240 mm senza eventualmente il modding e questo eventuali mod e questo infatti è una cosa che in questi case forse potrebbe essere interessante ma prevalentemente per chi ha intenzione di cominciare con questa tipologia di interventi ad ogni modo è un cabinet per 55 euro quindi per installazioni rapide veloci e l'assemblaggio di sistemi per tutti coloro i quali richiedono una un taglio sui costi di assemblaggio ultima cosa osserviamo la parte posteriore eccola qui e come possiamo notare quindi è presente la predisposizione per due ventole da 120 mm anche perché la paratia posteriore presenta un filtro facilmente removibile tramite due set di clips per quanto riguarda la lo spessore posteriore questo è un problema perché qui è presente ad esempio un foro per l'installazione per il passaggio di cavi ma non c'è lo spazio necessario per farli passare se non in prossimità appunto dei fori di uscita dell'alimentatore qui la compatibilità si limita a cavi e cablaggi che non vadano oltre 1.9 centimetri quindi in sostanza un valore davvero basso però d'altronde ricordiamo che il target di utenza per insomma ci siamo capiti qui sotto ci sono i cavi di installazione e niente troverete tutti gli altri dettagli della recensione del cabinet nella recensione scritta vi ringraziamo invitiamo a commentare il video fateci sapere cosa ne pensate qualora ci fossero problemi di sorta per l'installazione siamo a vostro servizio buona giornata a tutti grazie